Non ne ho idea. Perché Gesù è morto? Gesù... dovrei proprio saperlo. Bella domanda di mattina presto, eh? Gesù è morto per gli altri, per le persone. Per salvarci. Probabilmente perché Ponzio Pilato era un po' geloso di Gesù. Quindi... Tutti moriamo, e per diverse ragioni. Eh... per... beh, penso che sia stato per i nostri peccati, giusto? Perché la gente non era d'accordo con Lui. Beh, per il destino, più di ogni altra cosa. Non aveva sacrificato se stesso sulla croce? Una sua scelta. Gesù è morto perché la gente credesse. Beh, materia di discussione. Ognuno muore. Nessuno vive per sempre. La croce è il simbolo della fede cristiana, una sorta di logo del cristianesimo. Circa un terzo dei Vangeli parla della morte di Gesù. E gran parte del resto del Nuovo Testamento è dedicato a spiegare perché è morto. Quando ho capito perché Gesù era morto, quando ho sperimentato ciò che la sua morte aveva ottenuto per me, ogni cosa è cambiata. Perché Gesù è morto? La risposta è perché ti ama. C'è un versetto nel Nuovo Testamento in cui Paolo dice, Il figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dio ti ama. Questo è il messaggio al cuore del Nuovo Testamento. Ed è il messaggio al cuore di questo universo. Se tu fossi stata l'unica persona al mondo, Gesù sarebbe morto per te. È così personale. Ti ama così tanto. Il suo amore per te è incondizionato, è appassionato, è continuo. È il più grande amore che tu possa immaginare. Questo è il perché della croce. L'amore straordinario di Dio per te. E questa consapevolezza ha completamente cambiato la mia vita. Ma perché era necessario? Qual era il problema? Sei stato creato, sei stata creata ad immagine di Dio. Dio ti ama. Ciò significa che sei il capolavoro di Dio. C'è qualcosa di incredibile in ogni essere umano, qualcosa di nobile, qualcosa di magnifico. Gli esseri umani sono capaci di una creatività straordinaria. Musica, arte, letteratura. Dio ti ha donato la creatività perché sei a Sua immagine. Gli esseri umani sono capaci di grandi gesti di sacrificio, devozione, gentilezza. Ma certamente nel mio caso c'è un altro lato della medaglia. Siamo anche capaci di cose cattive. Basta aprire un giornale per vedere il male terribile presente nel mondo. Ma il mondo è più complesso del semplice dire, beh, ci sono persone buone e persone cattive. Perché la realtà è molto più complessa. Le persone capaci di grande amore, devozione e gentilezza possono fare anche cose cattive. Ho fatto delle cose cattive nella mia vita e di cui sono profondamente dispiaciuto. Ho ferito delle persone, persone che amavo. Il Nuovo Testamento dice, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La parola peccato mi fa pensare a sensi di colpa religiosi o cose come il cioccolato e il gelato. La frase, questo è peccaminoso, è diventata sinonimo di piacevole. Ho visto una pubblicità di un gelato che diceva, è così buono, peccaminoso. Ma il concetto di peccato nella Bibbia è molto più profondo e rilevante. Non stiamo parlando di errori accidentali, del mangiare troppa cioccolata, ma della nostra inclinazione naturale a rovinare le cose, a gettarle via, come promesse e relazioni a cui teniamo, o anche il nostro stesso benessere. Spesso guardiamo gli altri e pensiamo, ok, ho sbagliato qualcosa, certo, ma in confronto non sono così male. Ci sono persone che fanno cose molto peggiori. Ad essere sinceri, tutti abbiamo fatto cose sbagliate. Paolo dice, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E la gloria di Dio è stata rivelata in Gesù. E rispetto a Lui siamo tutti molto lontani. Allora potresti dire, beh, in questo caso siamo tutti sulla stessa barca, qual è il problema? Il problema sono le conseguenze di queste cose. Il Nuovo Testamento descrive gli effetti del peccato in modi diversi. Come l'inquinamento ambientale è un problema importante, Gesù ha detto che possiamo inquinare la nostra vita, il nostro cuore. È l'inquinamento del peccato. Le cose sbagliate che facciamo possono rovinare le nostre vite, avvelenare le nostre relazioni e rovinare anche il nostro rapporto con Dio. Le cose cattive creano dipendenza. Il peccato è potente. San Paolo dice, non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. E Gesù dice, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Se ad esempio prendi l'eroina per un po' di tempo, ne diventi dipendente, ma puoi diventare dipendente anche da cose diverse, come il cattivo umore, l'invidia, l'arroganza, l'orgoglio, l'egoismo, la calunnia, il sesso. Questa è la schiavitù di cui parlava Gesù, il cui potere è distruttivo sulle nostre vite. C'è qualcosa nella natura umana che grida giustizia. Amore e giustizia non sono contrari. Quando sentiamo parlare di un bambino molestato o di una persona anziana brutalmente aggredita, desideriamo che i responsabili vengano catturati e puniti, perché crediamo che ci debba essere una punizione per il peccato. Ma non sono solo i peccati degli altri che meritano di essere puniti, anche i nostri. Ma è più facile pensare alle altre persone e meno a noi stessi. San Paolo ha detto «Sei dunque inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi, perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose». Le cose sbagliate creano una barriera. È un po' come quando esageri con qualcuno che ami, un membro della famiglia o un amico, e fai fatica poi a guardarlo negli occhi, come se qualcosa tra di voi si fosse intromesso. E le cose che facciamo di sbagliato, il nostro peccato, creano una partizione, una barriera tra noi e Dio. Ed è come la rottura di una relazione, e non solo con Dio, ma anche con gli altri. Questo è il problema, questa è la brutta notizia. Allora qual è la soluzione? La buona notizia è che Dio ti ama ed è venuto sulla terra nella persona di suo figlio per fare qualcosa a riguardo, morire per te e morire per me. L'Apostolo Pietro dice «Egli, cioè Gesù, ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Dalle sue piaghe siete stati guariti». È stata definita come «l'autosostituzione di Dio». Ma cosa significa? Il 31 luglio 1941, le sirene risuonarono dal blocco 14 nel campo di Auschwitz. Un prigioniero era fuggito. Come rappresaglia, la Gestapo scelse dieci uomini arbitrariamente da far morire di fame in un bunker. Il nono selezionato era un uomo chiamato Francis Gajovnicek. Quando fu selezionato, Francis Gajovnicek pianse e disse «Oh, mia povera moglie e i miei figli, non mi vedranno mai più». In quel momento, un piccolo uomo con gli occhiali e la montatura di metallo si tolse il berretto, camminò in avanti e disse «Sono un prete cattolico, non ho moglie e figli e voglio morire al posto di quell'uomo». E con stupore di tutti, la sua offerta fu accettata. Il nome di quell'uomo era Massimiliano Colde, di 47 anni. Fu portato con gli altri nove al bunker della fame. Un uomo incredibile. Li faceva pregare, cantando inni. L'atmosfera lì dentro sembrava quella di una chiesa. Alla fine, il bunker doveva essere liberato per far posto ad altri condannati. Per questo, il 14 agosto 1941, venne ucciso per iniezione letale di acido carbolico. 41 anni dopo, il 10 ottobre 1982, la morte di Massimiliano Colde fu posta nella sua giusta prospettiva. Lì, in Piazza San Pietro, a Roma, in una folla di 150.000 persone, con 26 cardinali, 300 vescovi e arcivescovi, c'era Francis Gajovnicek. E in quell'occasione, il Papa descrisse la morte di Massimiliano Colde in questi termini. fu una vittoria come quella di Nostro Signore Gesù Cristo, perché Massimiliano Colde è morto per qualcun altro. Al posto di qualcun altro, quel qualcun altro era Francis Gajovnicek. Ricordo ancora il necrologio sul quotidiano Independent. È morto all'età di 93 anni. aveva passato il resto della sua vita in giro per il mondo a raccontare ciò che Massimiliano Colde aveva fatto. Era morto al suo posto. E in modo ancora più notevole, Gesù è morto al nostro posto. la crocifissione significava il massimo livello di dolore e di umiliazione. Eppure, il Nuovo Testamento non si sofferma sulla sofferenza fisica, la tortura della crocifissione. Perché in effetti altre persone nella storia sono morte e forse in modi ancora più orribili. Anche oggi nel mondo ci sono persone che vengono crocifisse. Ma la sofferenza di Gesù è stata unica. Perché non solo ha sofferto fisicamente ed emotivamente, ma anche spiritualmente, raccogliendo su di sé la tua colpa e la mia colpa. La croce e la risurrezione sono come un avvenimento e gli effetti della croce sono come le diverse sfaccettature di un bel diamante. una di queste ci mostra quanto Dio ci ama. La colpa è sentirsi male per ciò che abbiamo fatto. La vergogna è sentirsi male per quello che siamo. Sulla croce, Gesù ha preso la tua colpa, la tua vergogna, la mia colpa, la mia vergogna. Non c'è più bisogno, quindi, di colpa o vergogna, perché siamo amati. Il tuo valore è ciò che vali per Dio. Tu hai un valore infinito per Dio, perché Gesù è morto per te. Questa è la misura del suo amore per te. Un'altra sfaccettatura ci mostra la vera natura dell'amore. L'amore non è solo un sentimento. L'amore è più delle parole, richiede azioni. Gesù lo ha dimostrato. Ha mostrato il suo amore dando la sua vita per noi. Si è sacrificato per noi. Mio padre è morto un paio di anni fa. Negli ultimi otto anni di vita ha sofferto di demenza. È stata la cosa più difficile che come famiglia abbiamo dovuto affrontare. L'abbiamo visto passare da uno stato di padre amorevole e scienziato brillante a uno stato di nebbia con perdita di memoria, confusione, rabbia e paura. È stato orribile. E in quel tempo ricordo di essermi posto domande come perché? Perché lui? Perché noi? Perché ora? Per quale motivo? Come ha potuto Dio permettere che accadesse? Come può Dio permettere che accada a chiunque? Perché se Dio ci ama permette la sofferenza? Domande che troviamo anche nella Bibbia. Nei salmi, ad esempio, ci si chiede perché Dio è così lontano? ed è così che si sentivano. Sentivano un Dio lontano. Come cristiani è importante porsi queste domande. Credere in Dio non significa che non puoi avere dubbi o che non puoi farti delle domande. Gesù stesso ha gridato sulla croce Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? è stata la croce cioè la morte e la sofferenza di Gesù e la sua morte sulla croce che ho incontrato che mi ha dato non una risposta completa ma un aiuto mentre attraversavo quell'esperienza perché mi ha aiutato a capire che Dio non è lontano seduto su una nuvola ma veramente è venuto in Gesù soffrendo lui stesso. Lui sa cosa vuol dire soffrire ed è morto e quindi capisce quello che stiamo attraversando se soffriamo è con noi in quella sofferenza e alla fine mio padre è morto e con la sua morte ho iniziato a sperimentare qualcosa di strano come un sollievo una pace profonda che sentivo aveva a che fare con quanto avevo letto sulla resurrezione di Gesù la resurrezione di Gesù ci mostra che la morte non è la fine che alla fine Gesù ha sconfitto la morte e anche se ora soffriamo un giorno non ci sarà più sofferenza non ci sarà più dolore la resurrezione non è il rovescio di una sconfitta avvenuta sul luogo della croce è la manifestazione di una vittoria ci dice che le cose negative non avranno l'ultima parola forse sei in un momento difficile o stai soffrendo per alcune cose ma il male non avrà l'ultima parola perché il male è stato sconfitto sulla croce la storia finisce bene e poi vediamo che la croce ha a che fare con tutti quei problemi legati al peccato attraverso la croce la divisione tra noi e Dio è stata rimossa puoi tornare a casa da Dio San Paolo dice è stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo Dio era in Cristo non è che sulla croce ha voluto punire una terza persona innocente Gesù sarebbe stato crudele no Dio stesso è venuto sulla terra nella persona di suo figlio Dio era in Cristo per riconciliare voi e me a Lui è come il figlio al prodigo la storia che Gesù ha raccontato quella di un figlio andato via da casa che aveva lasciato suo padre ma che poi è ritornato amo la scultura di Charlie McKese che descrive il figlio al prodigo questa immagine di padre amorevole che Gesù ha descritto che quando il figlio torna a casa quando io e te torniamo a casa ci abbraccia ci avvolge ci bacia ci ama ci stringe siamo riconciliati con Lui possiamo vivere questa intima relazione con il padre e quando siamo riconciliati con Dio possiamo portare riconciliazione a tutte le altre nostre relazioni Gesù ha pagato il prezzo tutto ciò che dobbiamo fare è accettare il dono non è un semplice compri due paghi uno ma un compri tutto paghi zero quasi troppo bello per essere vero ciò non vuol dire che possiamo andare in giro e fare quello che vogliamo perché tanto c'è sempre il perdono al contrario questo è un grande incentivo per non peccare sono entrato nei giri sbagliati e ho iniziato con il rubare auto e nelle case io e i miei amici eravamo considerati ladri di alto profilo ero solito portare con me coltelli grandi e coltelli piccoli ero il tipo che non si faceva problemi ad estrarre un coltello e a usarlo ho finito così con l'accoltellare un uomo alla testa e poi un altro vicino al cuore col pendolo qui sopra la spalla sulla parte superiore del petto e della spalla è caduto a terra mi sono trovato a fuggire per due tentati omicidi e poi sono andato in prigione nutrivo un grande odio per il sistema non sopportavo che mi dicessero cosa fare e che le guardie si prendessero gioco di me alla prima occasione ho afferrato una guardia e l'ho accoltellata mi hanno così trasferito nelle prigioni di massima sicurezza mi hanno messo in un CSC dove il cibo ti viene passato da una fessura della porta nessun contatto fisico ovunque scudi e attrezzature antisommossa e questa è stata la mia vita per tanto tanto tempo mi spostavano di prigione in prigione di prigione in prigione sono finito così a Longlartin nel Worcestershire ed è lì che un giorno sono capitato in un corso alfa non avevo mai sentito parlare di alfa non lo conoscevo ricordo di esserci andato perché mi ci avevano mandato mi hanno fatto sedere ho pensato oh no è una cosa cristiana ci andavamo ogni settimana e io discutevo ricordo che il pastore è venuto da me e mi ha detto ok prima di pregare vorrei leggerti alcuni versetti delle scritture uno di questi diceva non c'è nessun giusto nemmeno uno tutti sono privi della gloria di Dio mi ha parlato poi di alcuni versi su Gesù e mi ha spiegato perché era morto sulla croce per i peccatori e altre cose e poi mi ha detto prega e ho iniziato a pregare ho detto Dio Dio se è vero che ci sei vieni nella mia vita perché odio chi sono non è successo niente ma poi mentre parlavo con il pastore ho iniziato a sentire come un'energia nel mio stomaco che cresceva e cresceva e cresceva tanto che sono scoppiato in un pianto incontrollabile questo e questo mi ha cambiato completamente la vita ho capito che Dio era reale e niente cambierà questo mi ricordo di aver corso lungo il corridoio gli altri sapevano che ero diventato cristiano così li ho aiutati nei due corsi alfa successivi e poi sono stato rilasciato sono ritornato nella prigione dove sembra strano ma la prigione dove ho accoltellato la guardia è stata la prima dove sono ritornato con alfa sono stati i primi è così che Dio lavora la cosa più bella per me è ritornare in carcere per aiutare i ragazzi che sono là e cercare di parlare loro di Dio ho quattro bambini sono la mia vita mi sconvolge pensare che se li avessi avuti allora sarebbero cresciuti senza una buona educazione ora hanno invece il loro papà che alla sera legge loro la Bibbia leggono la Bibbia con il loro papà hanno una vita è bellissimo e la mia vita è mia moglie i miei bambini sono il dono più bello oltre alla grazia che Dio mi ha dato il più bel dono che mi abbia mai fatto non mi aspettavo di piangere ora va bene il potere del peccato è stato spezzato con la croce Gesù ha detto se il figlio vi farà liberi sarete liberi davvero le nostre dipendenze sono spezzate prima di diventare cristiano avevo un brutto carattere mio padre aveva un brutto carattere e io l'avevo ereditato e pensavo avrò un brutto carattere per tutta la mia vita ma poi ho trovato Gesù che mi ha liberato altre aree della vita richiedono un processo più lungo e ci sono cose su cui sto ancora faticando in termini teologici la giustificazione avviene istantaneamente attraverso la croce tu sei istantaneamente riconciliato con Dio ma la santificazione che è il cammino per diventare come Gesù è un processo molto più lungo San Giovanni scrive il sangue di Gesù ci lava da ogni peccato riceviamo un perdono continuo abbiamo bisogno di essere continuamente perdonati per me sperimentare il perdono di Dio ha fatto la differenza prima di diventare cristiano se qualcuno mi offendeva nutrivo rancore verso quella persona ma tenere rancore è come permettere a qualcuno di occupare la tua testa mi fermavo e non perdonavo pur sapendo che stavo facendo del male a un'altra persona ma ora capisco che quel non perdonare faceva più male a me che all'altra persona un tale ha detto non perdonare qualcuno è come bere veleno e sperare che l'altra persona muoia una volta che hai sperimentato il perdono di Dio poiché Dio ti perdona devi perdonare te stesso ed è ciò che trovo più difficile ma dobbiamo farlo perché come dice C.S. Lewis non perdonare noi stessi è come volersi mettere su un tribunale più alto di quello di Dio se Dio perdona tu devi perdonare te stesso e dobbiamo perdonare gli altri perché ci è stato perdonato tanto il perdono è una scelta non è un'opzione non è facile C.S. Lewis ha detto tutti pensano che il perdono sia una bella idea ma fino a quando non hanno qualcosa da perdonare allora diventa molto difficile è proprio vero che il primo a scusarsi è il più coraggioso il primo a perdonare è il più forte e il primo a dimenticare è il più felice uno dei più grandi esempi per me è quello di Corrie Ten Boom una donna ebrea olandese che assieme alla sorella e al padre fu deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück suo padre e sua sorella Betsy morirono lì una donna straordinaria dopo la guerra ha dedicato il suo tempo a parlare agli altri del perdono una volta in una chiesa in Germania alla fine di un suo discorso un uomo le si avvicinò si accorse subito che quell'uomo era una delle guardie più crudeli di Ravensbrück il suo ricordo andò subito a quei giorni nell'avvicinarsi l'uomo le disse sono stato una guardia a Ravensbrück lui non l'aveva riconosciuta ma lei si poteva ancora vederlo lì mentre camminava senza vestiti davanti a lui si sentiva così fredda e arrabbiata poi lui disse sono diventato cristiano so di aver fatto cose molto crudeli ma ho ricevuto il perdono di Dio e chiedo la grazia di avere la possibilità di chiedere perdono a una delle mie stesse vittime Froyland Tembun se Dio mi ha perdonato lei mi può perdonare e io non potevo mi veniva in mente la sofferenza di mia sorella mentre moriva per mano sua e non potevo non potevo dovevo odiarlo ma poi ho detto grazie Gesù che hai portato nel mio cuore l'amore di Dio per mezzo dello Spirito Santo che mi è stato dato e grazie Padre che è il tuo amore più forte del mio odio e della mia incapacità di perdonare e in quel momento mi sono sentita libera ho detto fratello dammi la tua mano e ho stretto la sua mano nella mia è stato come sentire un fiume di Dio scorrere per le mie braccia non potrai mai toccare l'oceano dell'amore di Dio se non perdonerai i tuoi nemici mi può perdonare no non posso ma Lui può questo perdono totale senza limiti può trasformare un matrimonio la vita familiare tutte le nostre relazioni tutte le nostre amicizie siamo amati Dio ti ama il figlio di Dio Gesù ha dato se stesso per te quando ho capito questo tutto è cambiato nella mia vita e può cambiare tutto anche per te grazie a tutti Grazie a tutti